E' partita dal Torrione, da San Domenico, la sperimentazione all'Aquila delle prime due isole ecologiche informatizzate. Un modo diverso di conferire e differenziare, che non sostituisce, ma integra il porta a porta. L'iniziativa è stata promossa dalla SM e dal Comune dell'Aquila e ha come obiettivo consentire lo smaltimento dei rifiuti in quelle zone dove non esiste il porta a porta. Se la sperimentazione darà i suoi frutti, si vorrebbe portare anche nelle frazioni della città. Per i primi due mesi tutti i cittadini potranno usare le eco-isole, successivamente solo i residenti del Torrione e di San Domenico. Conferire è molto semplice, basta inserire la tessera sanitaria. Le isole ecologiche sono videosorvegliate e un sensore interno avvisa all'azienda quando i cassonetti sono pieni e c'è bisogno di scaricare. La sperimentazione è stata avviata grazie ad un investimento di 40.000 euro da parte del Comune dell'Aquila e dalla SM, società multiservizi. Sono dei sistemi di raccoglie di differenziata differenti dal porta a porta, speriamo ce ne siano anche altri in futuro, proprio perché è bene differenziare la differenziata. Questo è un progetto che stiamo portando avanti, che porteremo avanti ed è una cosa secondo me molto interessante anche per cercare di contenere i costi. Bisogna ripensare il servizio e l'isola, questa eco-isola, è un primo tentativo, è un'isola intelligente, sicura, videosorvegliata, garantisce un servizio quotidiano ai cittadini e quindi li agevola anche nelle modalità di conferimento dei rifiuti. Partiamo con questa sperimentazione di due isole, cercando ovviamente, l'obiettivo nostro è quello di allargare il più possibile e dotare la città di un numero maggiore di queste eco-isole nel momento in cui ci daranno quelle risposte che noi oggi ci attendiamo.